Ciao navigatori, l'ignoto ha sempre affascinato l'uomo, per questo in epoca vittoriana lo spiritismo ebbe un interesse in continua crescita. Non peraltro molti oggetti moderni che rappresentano lo spiritismo nascono nel XIX secolo, dalle carte dei tarocchi alle tavole Ouija. Soprattutto nell'alta borghesia o le persone agiate presero seriamente questa nuova moda occulta, iniziando ad elaborare nuove pratiche come le sedute spiritiche e cercando quindi di immortalare una presenza tramite uno scatto fotografico. Da rovescio della medaglia, quelle religioni standardizzate iniziarono ad avere poco interesse. Le persone davano sempre più importanza all'occulto e alla morte. Si inizia a fotografare i propri defunti, non solo nella bara, ma anche come se fossero ancora vivi, in piedi o seduti. Nascono i primi cimiteri monumentali. Non c'è quindi da meravigliarsi come lo spiritismo in età vittoriana abbia avuto il suo abice di interesse. La classica seduta spiritica, come la conosciamo noi, ha origine proprio nel XIX secolo. Le persone, tramite questa pratica, coadjuvate da una medium, cercavano di contattare i loro morti o personaggi storici. La vera seduta spiritica è stata creata durante l'era vittoriana, grazie alle sorelle Fox. Nel 1848 le Fox sostenevano di riuscire a comunicare con il fantasma di un uomo assassinato nella loro casa a Heidesville, New York. Quando lo spirito voleva comunicare con loro, bussava un tavolo. La storia fece da subito scalpore, da essere riportata nei giornali di tutto il paese. C'è da dire che oltre la metà delle sedute spiritiche erano finte. Le cosiddette sensitive sbattevano con un pelle di legno sotto il tavolino, oppure dietro un'altra stanza c'era un loro complice. La proiezione astrale era una pratica usata dagli spiritualisti per rimuovere la loro coscienza dei corpi e muoversi nello spazio. La cosiddetta esperienza extra-corporea. Annie Horniman, attrice britannica e leader spiritualista, praticava la proiezione astrale. Ella affermava di poter proiettare se stessa in modo astrale dove voleva ogni volta che lo desiderava, anche su altri pianeti. La donna disse di aver visitato Saturno e di aver parlato regolarmente con le persone che vi abitavano. Non una, ma due First Ladies della Casa Bianca furono fortemente coinvolte nello spiritismo e nella pratica di contattare i morti. La prima fu la moglie di Franklin Peirce, Jane Peirce, nota per le sue convinzioni spiritualiste, in particolare dopo la morte del suo figlio Billy. Anche la moglie di Abramo Lincoln, Mary Todd Lincoln, tenne molte sedute spiritiche alla Casa Bianca. Lo stesso Lincoln era presente durante almeno una di queste sedute, condotte da medium famose come Craston Leary. In epoca vittoriana, il fotografo William Hyde Mumbler ebbe il merito di portare una nuova forma di spiritismo, riuscire a immortalare con una fotografia dei presunti fantasmi. Per puro caso, mentre sviluppava una foto, si accorse di una doppia esposizione che mostrava quello che sembrava un fantasma dietro una persona. Presto, iniziò a ricevere chiamate da molte famiglie negli Stati Uniti per i funerali. La tecnica di questo tipo di fotografia puntava a localizzare ambienti con strane luci o nebbie, qualsiasi cosa che potesse essere associata con il mondo ultraterreno e luoghi cari al defunto, quindi per immortalare una presenza. Oltre alla fotografia, divenne popolare la caccia fantasmi. In epoca vittoriana, ovviamente, non c'era ancora la tecnologia che abbiamo oggi, con i quali ghost hunter, tramite high tech, riescono a catturare suoni o presenze ultraterrene. Nel XIX secolo, si faceva affilamento a candele. Quando le fiamme diventavano di colori blu, si pensava alla presenza di uno spirito, oppure si utilizzava un ramo bagnato per rilevare un luogo più freddo, o persino pezzi di vetro e specchi in cui gli spiriti si sarebbero mostrati. L'idea della tavola Ouija era in circolazione da un po' di tempo prima che i vittoriari se ne accorgessero. Le versioni precedenti consistevano in carta e penna o anche una lavagna bianca in cui le persone scrivevano le parole sopra le quali gli spiriti dovevano rispondere. Ufficialmente la tavola Ouija nasce nel 1891 da un'azienda di giocattoli, che nella pubblicità parlava di questa magica tavola che riusciva a rispondere a domande sul passato e collegare il mondo dei vivi con quello dei morti. Per quanto riguarda i tarocchi esistono da secoli in Italia, presenti già nel 1500, chiamati rispettivamente carte da gioco mamme e lucchi e tarocchi appropriati, le carte venivano usate per predire il futuro. Il mazzo di tarocchi Rider Waite, prodotto ancora oggi, è stato creato durante l'era vittoriana, contiene carte come il fante di coppa, l'imperatrice, il matto e naturalmente la morte e altre ancora. Il mazzo Rider Waite è stato il brainstorming della spiritualità e mistico di Hay Waite e dell'editore William Ride e Patricia Cole e M. Smith, che ha notorialmente disegnato le illustrazioni che hanno informato le persone del loro futuro. Infine, a New York nel 1879 fu fondata una vera cittadina nel quale ancora oggi ospitano medium sensitivi, astrologi e altri esperti spirituali. La città è conosciuta come Liley Dale. Bene, se questo video ti è piaciuto, lascia un like alla prossima, ciao! Ciao!